Paolo Scampamorte, centrale difensivo del Rocca Sicura, sosta, vittoria in trasferta a Pietramonte Corvino. Una sosta obbligata dove ovviamente vi sarebbe piaciuto giocare quella finale, visto che tu comunque ne hai giocate tante. Parlando della partita con il Gambatesa, non era da sottovalutare perché non perdeva da quattro partite, ma ottimo approccio, tanta qualità là davanti. Comunque siete riusciti a portare a casa quello di più importante che si poteva portare. Sì, hai detto bene, ovviamente questo percorso viene da lontano, ora stiamo facendo un bel filotto di risultati positivi, ma oltre al risultato penso che sia una conseguenza, anche la molle di gioco, l'aggressività, l'aspetto fisico, credo che soprattutto in questo campionato conta tanto, ci alleniamo bene settimana in settimana, giorno per giorno, e poi il risultato come ti dico è una conseguenza. Oggi non era per niente facile perché comunque veniva una squadra che si sa quando si tratta per la salvezza si dà anima e cuore, però noi siamo pronti, siamo pronti a andare ancora avanti, a fare ancora tanta strada perché il cammino è lungo, non guardiamo le altre, guardiamo in casa nostra e andiamo avanti. Ancora avete cambiato volto in questo giurone di ritorno, un vero e proprio andamento da vertice, se escludiamo soltanto la sconfitta sul campo dell'Agli, campo basso e campo di pietra, l'importante è non continuare a guardare la classifica perché conti inutili poi si rivelerebbero tali e continuare con questo percorso. Guarda, non voglio essere presuntuoso ma credo che alla fine noi dobbiamo guardare solo il Rocca Sicura perché credo che la società abbia allestito una squadra che deve stare là sopra, quindi non per denigrare nessuno ma credo che se facciamo bene noi faremo tanta strada come ti ho detto e come hai detto tu domenica in domenica andiamo ad aggrappare sempre i tre punti che per noi sono fondamentali. Poi il primo di maggio, il 2 di maggio, non so quando sarà l'ultima, vedremo la classifica e vedremo cosa fare.